Vediamo come calcolare il massimo comune divisore tra due o più numeri. In questo esempio cerchiamo il massimo comune divisore tra tre numeri, 90, 22, 48. Ma che cos'è il massimo comune divisore? E' il più grande divisore comune tra due o più numeri. Cioè per trovare il più grande divisore comune bisogna prima scomporre in fattori primi i numeri. Quindi 90, scomposto viene 2, per 3 elevato a 2, per 5. Il 22, 2, per 11. Il 48, 2, 4 volte, quindi 2 elevato a 4, per 3. Ora, quindi, cosa dobbiamo fare? Una volta scomposto i numeri in fattori primi, dobbiamo cercare i fattori comuni. Ecco, infatti, cosa bisogna fare? Bisogna prendere una sola volta i fattori comuni col minimo esponente. Vedete, quindi, 2 è comune a tutte e tre. Vedete, 2 nel 90, 2 nel 22 e 2 nel 48. Il 3 c'è solamente nel 90 e nel 48, quindi non dobbiamo considerarlo. Il 5 c'è solo nel 90 e quindi neanche questo dobbiamo considerarlo. L'unico da considerare è il 2 perché è comune a tutte e tre. Quale prendiamo? Quello col massimo esponente? No. Dobbiamo prendere quello col minimo esponente perché la regola dice questo. prendere una sola volta i fattori comuni col minimo esponente. Fattori comuni. Ecco. Una sola volta col minimo esponente. Qual è allora il massimo comune divisore tra 90, 22 e 48? Massimo comune divisore uguale 2. 2 infatti è il fattore comune a tutti e tre col minimo esponente. 2 infatti è il fattore comune a tutti e tre col minimo esponente.